Si è svolto nella giornata di giovedì 18 giugno il secondo memorial dedicato ad Angelo Perla, una perla per la vita. Alla partitella giocata presso lo stadio comunale Piero della Francesca di Monterchi, dalle due compagini di Monterchi e Sansepolcro, è poi seguita una cena presso il ristorante La Pieve Vecchia. Il ricavato di questa cena sarà poi devoluto in beneficenza. Ma andiamoci a sentire l'intervista realizzata a Luca Lacrimini, uno dei principali organizzatori dell'evento. Luca Lacrimini ha quasi un anno dalla scomparsa di Angelo Perla, Monterchi e la Valtiberina non dimenticano e oggi si celebra il secondo memorial una perla per la vita dedicato a lui. Sì, oggi ancora un anno fa era in vita perché è il 18 del giorno del suo compleanno. Se penso a un anno fa eravamo al torneo a Gragnano e dopo si festeggiò il suo compleanno. Oggi a distanza di un anno siamo ancora qua, non c'è più la sua presenza però lui è sempre in mezzo a noi e quindi ce l'abbiamo messa tutta per cercare di organizzare ancora una volta una serata degna del suo nome. Un grande personaggio a livello sportivo e non solo ed è sicuramente bello ricordarlo con il calcio. Sì, assolutamente, infatti è un insieme di cose, c'è la partita ora e ci sarà dopo la scena con la visione di nuovo del film, insomma, il parto dove lui è stato protagonista. Un insieme di cose perché lui era una persona che poteva stare in tutti gli ambiti e quindi è giusto ricordarla così. Raccontaci un po' questa serata, hai già accennato della scena, l'hai ricavato, poi andrà anche in beneficenza. Sì, la cosa più importante è che oltre a festeggiare Angelo, insomma, ci sarà la scena e ci sarà questo film documentario che abbiamo già visto in diverse occasioni dove verrà anche Alessandro Perrella da Roma che è stato il regista durante la scena questo. E poi tutto il ricavato andrà al Maier di Firenze come l'anno scorso dove siamo riusciti a portargli un'ottima cifra, speriamo quest'anno di superarla perché, insomma, riuscire a dare una mano a questi bambini che hanno tanto bisogno è un onore per noi. Ci ricordiamo, l'anno scorso avete anche dedicato, per quanto può valere, la vittoria del torneo di Gragnano perché lui era il vostro allenatore. Sì, sì, assolutamente sì. L'anno scorso abbiamo vinto questo torneo, la squadra l'aveva preparata lui e quest'anno l'abbiamo rifatta con lo stesso entusiasmo. Ora, speriamo di vincerlo anche quest'anno, ma l'importante è che ci divertiamo e facciamo le persone serie come lui vorrebbe, questo è importante.